Nicola, quali sono le prime impressioni in maglia giallorossa? Le prime impressioni sono state subito positive, ho trovato un clima familiare, con entusiasmo e c'è tanta voglia di far bene. Tu hai avuto la possibilità di conquistare una promozione importante con il Carp in Serie A, ma anche di giocare un bel po' nelle leghe inferiori. Con quali ambizioni personali e di squadra ti presenti qui a Bassano? Le ambizioni sono tante, certo che dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare partita dopo partita, comunque scenderemo in campo per vincere ogni domenica e il nostro credo deve essere quello.